Buongiorno a tutti, bentrovati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi video dei prodotti terminati del mese di luglio. Vedete la novità, gli occhiali da vista fissi, perché dovrò portare gli occhiali fissi. Bando alle ciance, iniziamo subito con i prodotti terminati di questo caldo mese di luglio. Pesco random da la mia cassettina e iniziamo. Allora, colluttorio Mint Active, antiplacca, anti tartaro, white and fresh, 500 ml di prodotto. Allora, non ricordo sinceramente dove l'ho comprato. Sicuramente non è uno dei colluttori che andrei a ricercare per ricomprare. Un pochino forte come gusto, però il suo lavoro insomma l'ha fatto. Non mi ha fatto impazzire. Se devo proprio trovargli una critica, lo trovavo un filino forte da un punto di vista puramente di gusto. Ecco, per chi ama invece Gusti Strong, questo è indicatissimo. Poi, terminato un deodorante della marca Evin, questo è al sorbetto di agrumi e legni marini, 24 ore, Evin Men. Allora, 150 ml di prodotto. Questo prodotto, la marca Evin, io lo trovavo normalmente al discount Ecom. In realtà, questo l'ho comprato per mio marito e l'ho trovato in un negozio che vende profumi, vende sia prodotti per la cura del corpo, della casa, della persona e così via. E ho trovato sia quelli da donna che quelli da uomo. Gli ho preso questo qua, gli è piaciuto tantissimo. Tant'è vero che mi ha detto, dove l'hai comprato? Gli ho spiegato dove l'ho comprato. Sono andata a ricercarlo, non l'ho trovato nella stessa fragranza, ma l'ho trovato ad un'altra fragranza che ho comprato, 1,70 euro. Ho visto però che sono in vendita anche su Amazon. E ce n'è di svariati gusti, sia di svariate fragranze, sia per uomo che per donna. Posso dirvi che questo praticamente a mio marito è piaciuto tanto, quindi io ve lo consiglio. Poi, terminato questo doccio a schiuma di Sien, l'è scritta ancora in spagnolo, un prodotto vegano, un gel da bagno, erano 750 ml di prodotto, io l'avevo comprato ancora quando ero stata praticamente in vacanza, un buon prodotto, non l'ho mai visto in Italia. Sicuramente non è un prodotto particolarmente idratante, un prodotto particolarmente profumato, ma devo dire che il suo l'ha fatto. Poi, terminato invece di questa marca Khesir, terre lontane, ora ve lo aggiusto un po', questo bagno schiuma aromatico a lebano. una fragranza decisamente più calda, più invernale, questi sono 500 ml di prodotto, lo trovate da Tivota, ma lo trovate anche da Prodet. Avevo anche il relativo deodorante, l'abbiamo utilizzato, il deodorante l'ha utilizzato mio marito, e devo dire che alle volte l'ho spruzzato anche io sopra alcuni profumi. Il bagno schiuma mi è piaciuto molto, consistenza bella cremosa, faceva una bella schiuma, non una schiuma esagerata, ma comunque sia una buona schiuma, non andava a seccare la pelle, lavava bene, ve lo consiglio. Terminato, un dentifricio della marca Dentalux, 125 ml di prodotto, questi sono rivenduti da Lidl. Allora, io quando li compro, li compro perché mi trovo da Lidl e ho necessità di comprare un dentifricio appunto, da avere in più, in scorta, perché non mi ricordo poi mai, gestendo due case, se ne ho uno qua, uno là, come è la situazione insomma. Lava bene, l'unica cosa che posso dire è che ha una consistenza gelosa, gelatinosa, che tende quasi a scivolare dallo spazzolino. Bisogna avere un minimo di accortezza quando lo si usa, per il resto, per quanto mi riguarda, ha lavato bene. Poi, ho terminato un detergente liquido con antibatterico agli estratti di olio di oliva di bottega verde, 300 ml di prodotto, questo è un detergente che ho utilizzato per le mani, mi è piaciuto tanto, non va a seccare, non va a seccare la pelle, lascia un piacevole profumo sulle mani, consigliatissimo. Poi, ho terminato un pacco di salviette del marchio Risparmio Casa, salviette senza infamie e senza lode che io tengo in borsa, quando ho in borsa o in macchina, giusto per pulirci, quando siamo, siamo in giro, un prodotto che compro e ricompro, l'importante è che abbiano questo tipo di chiusura in modo e maniera che si mantengano più fresche a lungo. Poi, ho terminato sempre queste salviette della marca Agis che non mi piacciono tantissimo, non mi fanno impazzire, però devo dire che nonostante che avessero questa apertura così, con la cartina, ecco, che si andava a riattaccare, si sono mantenute bene imbevute, forse le ultime erano eccessivamente, eccessivamente imbevute, queste erano 56 salviette, 4 strati, erano abbastanza spesse, non dico che le vada a ricomprare perché se io compro quello che mi capita sotto mano perché non ho particolari esigenze, se posso evito queste, queste le avevo comprate forse perché erano un pacco scorta in offerta, ecco, poi, terminato, un dentifricio AZ menta fresca, questo lo compriamo e lo ricompriamo, cioè, ci piace, lo utilizziamo, è un buonissimo prodotto, ho saponetta palmolive, questa è una saponetta, quanti grammi sono, non era particolarmente grande, comunque le avevo comprate 6, una confezione mi sembra da 6 su Amazon, 90 grammi, non mi piace, non mi piace perché non fa una bella schiuma, probabilmente poi abituata anche alle saponette DAV, tra questa e la saponetta DAV c'è proprio un abisso, quindi, difficilmente le andrò a ricomprare, terminato, un deodorante Neutro Roberts fresco, zero sali, bergamotto e zenzero, buonissimo, questo mi piace tanto, 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 è piaciuto sia a me che a mio marito che l'ha utilizzato con grande piacere, e anche questo di Breeze, al tè bianco, questo è piaciuto più a me che non a lui, devo dire la verità, buoni comunque sia entrambi questi prodotti. Poi, ho terminato questo detergente intimo, alcagine, detergente intimo dolce, pH fisiologico, commentolo e aloe vera, 250 ml di prodotto, ne avete già visto la confezione perché ne avevo comprate due in offerta su Amazon, un buon detergente intimo, non vi aspettate la freschezza del chili, perché non è un prodotto così fresco, però lava molto bene, deterge, non va a seccare la zona, io lo consiglio, ecco, non dà particolarmente fastidio. Poi, terminata una confezione di olio di carota che è l'integratore a base di, oltre olio di carota con rame e vitamina A che io prendo durante la stagione, la stagione estiva, è un prodotto senza glutine di equilibra, io mi ci trovo molto bene, costa poco, lo compro su Amazon se vi interessa, un prodotto eccellente, super super consigliato. Mio marito ha terminato di Eden Shoulders questo shampoo menthol fresh, lui usa sempre questi, questi qua di questa marca, questo Claire, 225 ml di prodotto, io non l'ho utilizzato, le poche volte che l'ho utilizzato devo dire che a me non entusiasmano, non entusiasmano tanti, lui ci si trova benissimo, tant'è vero che io gli compro solo questi per lui. Poi, terminato questo sapone maniche, io in realtà ho utilizzato come detergente doccia di Sien, il black pepper al pepe nero, l'avevo comprato quando ero stata appunto in vacanza in una Lidl spagnola, l'avevo trovato tutti quanti perché qui da noi non si trovano più, devo dire che rispetto a quello che avevo provato qui in Italia questo profumava leggermente meno, comunque sia un buon prodotto, peccato che qui in Italia non si trovino più, non li ho mai più visti, devo dire la verità, io quando vado a fare almeno una volta alla settimana da Lidl ci passo e questo prodotto qua io non l'ho proprio più visto. Ho terminato di Lumene una maschera SOS Mask, una maschera praticamente che va a reidratare, a lenire la pelle, a nutrirla allo stesso tempo, questa maschera qua ha fatto un post anche sul mio profilo Instagram che vi lascio linkato qui sotto dove elenco appunto tutte le caratteristiche di questa maschera che è davvero buona e costa poco. Ora io l'avevo comprata credo su Makeup.it 750 ml di prodotto, aveva al suo interno anche dei granuli ma non granuli esfolianti sicuramente erano dei granuli che a contatto con l'acqua si scioglievano una volta appunto tenuta in pose andavate a risciacquare devo dire aveva questi aveva estratti appunto questi piccoli questa piccola polvere era più che altro una sorta di di polvere priva di di profumazione non so se vi ho già detto che era 75 ml di prodotto una buonissima maschera credo che si possa trovare anche sul look fantastic poi un prodotto per i capelli che viene venduto da Eurospin questo balsamo balsamo capelli lisci io li compro indistintamente lisci ricci questi setosi pieni di vitalità allora rispetto a quello per capelli ricci devo dire che mi è piaciuto molto di più questo questo andava a districare molto 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 meglio rispetto all'altro non lavora al pari di un di un sun silk what in minute wow di un panten di tutti quei balsami formulati diciamo per essere applicati e tenuti in posa pochissimo tempo e districano il capello benissimo però ha un costo anche inferiore per chi ne deve usare delle vagonate avendo tanti capelli questo questi prodotti qua possono tornare comodo sicuramente è un prodotto che io andrò a ricomprare se non altro da tenere in scorta in casa quando quando magari ne finisco uno di quelli che sto utilizzando d'abitudine e rimango appunto senza perché alle volte mi dimentico ahimè anche di comprare poi terminato un altro bagno schiuma della Milmil questo bagno schiuma in questa in questo ecopack camomilla e avena un bagno schiuma senza infamie senza senza lode profumo quasi inesistente si sente proprio un leggerissimo leggerissimo profumo di camomilla ma con molta fantasia 750 ml di prodotto credo di avervelo già detto pagato sotto i 2 euro credo 1 euro e 49 no non credo di andarlo a ricomprare terminato l'altro colluttorio questo è il Mr. Dent con antibatterico di remineralizzante aiuta a rinforzare lo smalto del marchio risparmio casa questi molto spesso li trovate a 99 centesimi ve lo consiglio ve lo consiglio vi consiglio sia questo sia quello della versione camomilla che ho comprato l'altro giorno costano poco fanno il loro se uno non ha particolari problematiche che devo utilizzare un colluttorio specifico secondo me questo è un colluttorio validissimo poi ho utilizzato un campioncino di questo deogel di erbolario deodorante a lungo effetto alla menta acquatica e alla vitamina E questo lo voglio tenere da parte perché mi potrebbe interessare e comprarlo è un deodorante formulato sotto come se fosse un gel trasparente molto fresco non lascia nessun residuo non macchia i vestiti devo dire che è un prodotto che mi è che mi è piaciuto quindi lo tengo lo tengo da parte poi ho terminato due profumi cioè un profumo in full size e anche il relativo campioncino questo di Sisley numero 2 allora è un profumo molto fresco dalle note erbacee è un profumo che secondo me non vale i soldi che costa perché sì che è un'acqua però veramente si sente poco 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 si sente il momento che lo andate a spruzzare nel giro praticamente di 40 minuti un'ora non si sente più niente quindi è un prodotto un profumo che non andrò a ricomprare ma non voglio neanche ricomprare i profumi perché ne ho un sacco da da smaltire sempre per quanto riguarda i profumi ho utilizzato questo campioncino l'Epetit Rob Noir di Guerlain insomma chiamatelo come volete come più vi piace non mi è piaciuto poi ho terminato vi faccio vedere velocemente le maschere che ho terminato e vi lascio al fondo i prodotti più succosi di Abib questa maschera qua una maschera ve la mostro eccola qua una maschera super super idratante intresa di prodotto in assoluto una delle migliori maschere che io abbia mai fatto una maschera coreana straconsigliata proprio un prodotto ottimo poi di purito ho terminato questa ho fatto questa maschera qua la Milk Serum Mask il mese scorso ve ne avevo mostrata un'altra ora non ricordo quale fosse la variante però questa Milk Serum Mask mi è piaciuta meno rispetto l'altra l'altra era decisamente era la Jelly Mask era più intresa di prodotto andava a idratare molto più in profondità rispetto a questa diciamo che questa ha lavorato molto più in superficie che non che non l'altra è una maschera di Momo Puri una maschera giapponese devo dire che comunque sia Momo Puri è una marca che a me piace piace tantissimo per quanto riguarda poi ho utilizzato questo campioncino del Dottor Klein di contorno occhi il Perfection High Cream non mi è piaciuto mi andava a bruciare a pizzicare la zona del contorno occhi poi sempre per quanto riguarda le maschere ho fatto questa Tiger Grass and Aloe di Lola questa mi è piaciuta tanto andava praticamente a idratare ricompattare io ovviamente quando faccio queste maschere qua vado a cercare comunque sia una bella botta di idratazione mi è piaciuta come mi è piaciuta questa di Mea Rosa al scusate vitamina C e miele buona anche questa di Mea Rosa poi questa di Jin Young Sang che è sempre un marchio coreano credo coreano o giapponese all'estratto di bava di lumaca buonissima queste me le aveva mandate Stilevana ottima questa maschera qua poi di Dizao questa qua all'acido ialuronico e estratto di carbone questa non mi è piaciuta a me le maschere di Dizao piacciono piacciono tutti guardavo in italiano se c'era scritto qualche cosa a maschera viso nera l'acido dialluronico e carbone applicare la maschera sulla pelle pulita 15-20 minuti non mi è piaciuta l'ho trovata un filino un filino troppo scusate un filino troppo secca è coreana made in Corea infine boccio e anche di questo avete visto un post sul mio profilo Instagram questi patch di di Primark a base di vitamina C ci sono 15 applicazioni quindi 30 patch non mi sono non mi sono piaciuti non ci siamo proprio per mettere un prodotto come questo utilizzo utilizzo dell'altro sono molto sono molto 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 blandi e posto che io utilizzo questi prodotti qua per avere un qualcosa in più questo non scusate questo non andava sinceramente a dare un plus in più alla mia skin care poi ho terminato questo siero e anche di questo avete visto il il post su Instagram vi invito ad andarla a vedere vi lascio il link sotto ripeto di Beauty of Yozen questo qua questo è anche un brand coreano questo è un siero riparatore al ginseng ed estratto di bava di rumaca ha cambiato il nome nel post gli scrivo il nome che ha adesso lo potete riperire su YesStyle Style Evana tutti quei siti che vendono prodotti coreani un siero fantastico andava a idratare riparare lenire rimpolpare rimpolpare la pelle una pelle dal colore molto più soprattutto molto più compatta mi è piaciuto mi è piaciuto tanto io trovavo la mattina la pelle molto più compatta utilizzando questo siero qua quindi ve lo consiglio ho terminato questo siero alla vitamina C che è uno dei miei sieri preferiti a base di vitamina C di La Roche Posay se questo lo utilizzate con costanza avrete un colorito molto 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 più uniforme utilizzato soprattutto durante la stagione estiva con la corretta protezione solare vi regala una pelle davvero davvero fantastica io ho riscontrato un miglioramento proprio dal da un punto di vista dell'omogeneità del colorito l'ho utilizzato per un periodo alla mattina e alla sera utilizzavo quello che vi ho fatto vedere in precedenza quando avevo finito quello ho utilizzato questo sia mattino che sera mi è piaciuto tanto 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 unica pecca trovo il pack un po' un po' difettoso perché il prodotto tendeva a uscire anche un po' fuori lasciare un po' di traccia se vedete non è non è tanto cioè un po' ingestibile da quel punto di vista lì terminata una protezione solare di Swear la Sun Secure Cream questo SPF 30 buonissimo una buonissima protezione solare che voi andate ad applicarvi da quasi una sensazione di freschezza buona 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 a me Solare VS Wear piacciono tutti ho terminato poi ancora un tonico e questo è un signor tonico è il tonico di Aruaru questo praticamente a base di acido di aluronico e riso nero per pelli sensibili privo di alcol e di profumazione questo che c'è io non riesco più a farlo uscire perché ha un foro microscopico il prodotto praticamente non esce non esce più ora vedrò se riesco a togliere queste e prendere il resto del prodotto allora questo prodotto qua vi dura un'infinità di tempo e vi idrata la pelle vi va a ribilanciare la pelle dopo la detersione in maniera eccellente devo dire che è uno se non il tonico migliore che io abbia mai provato lo potrei ricomprare sicuramente se non fosse per il fatto che io ami sempre testare cose nuove ma non escludo di ricomprarlo e di provare altre referenze di questa azienda infine ho terminato due prodotti per il contornocchi uno di Bionic questo siero e vi ho lasciato anche qui se andate vedete i post dettagliati il siero contornocchi riattivatore un buonissimo un buonissimo siero che io utilizzavo sia mattina che sera utilizzato la mattina però da quello sprint in più al contorno al contorno occhi un siero contornocchi energizzante una bella texture che si andava a fondere con la pelle senza nessun problema consigliato e infine di di Uriage della linea Xemose questo prodotto qua questo contornocchi per le pelli sensibili irritate sensibilizzate un ottimo prodotto che io vi consiglio proprio a mani basse perché questo prodotto qua soprattutto per chi soffre di allergie ai pollini quindi starutisce tanto gli lacrimano gli occhi è facile che la zona del contorno occhi del naso si vada a a screpolare io devo dire che l'altro giorno mio marido ha detto guarda che sei tutta screpolata dal naso perché avevo avuto un attacco di allergia tremendo io quando ho applicato il contorno occhi sono andata ad applicarlo anche normalmente lo applico anche qui mi sono trascinata un pochino più su devo dire che mi ha rimesso la pelle la pelle a nuovo quindi entrambi super consigliati bene detto questo i prodotti del mese di luglio sono terminati spero di esservi stata utile di avervi tenuto compagnia iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi un like di supporto e noi ci vediamo presto con un nuovo video un bacio e alla prossima